Gio Formaggio e Milena Cecchetto scoppia la pace, pace senza querele, pace senza processi. Il consigliere regionale di Fratelli d'Italia era stato accusato di molestie dalla consigliera regionale della Lega. La vicenda si era consumata il 7 marzo a Palazzo Ferrufini, proprio davanti all'aula del Consiglio regionale, per poi esplodere il giorno della festa della donna. In quell'occasione i due esponenti politici vicentini ci avevano raccontato la loro versione dei fatti. Siamo lì nell'atrio, lei è seduta sul bracciolo di un divano, io arrivo lì per chiacchierare, la spingo per la spalla, lei si siede sul divano, io mi siedo nel bracciolo, cominciamo a chiacchierare anche con altre persone, del più, del meno, insomma battute eccetera, come facciamo di solito, battute eccetera, come al solito, ci siamo salutati, ci siamo baciati. Mi ha spinto sul divanetto e quel bacio che lui dice di avermi dato sulla guancia per andare lì a non era proprio così ricambiato e così affettuoso come lui vuol far credere. Da allora è passato un mese, c'è stato un processo non giudiziario ma mediatico e Gio Formaggio è stato sospeso dal Consiglio regionale per cinque giorni. Poi il silenzio, fino ad oggi, con l'avvocato Francesca Rigato, legale di Gio Formaggio, che sul media nord-est ha dato lettura del comunicato del suo assistito. Io sottoscritto Gio Formaggio dichiaro che il comportamento mantenuto nei confronti della consigliera Milena Cecchetto è stato inappropriato e fuori luogo. Intendo pertanto con questo comunicato rivolgere le mie formali e sentite scuse alla signora Milena Cecchetto per quanto fatto, impegnandomi a non tenere più atteggiamenti come quelli posti in essere lo scorso 7 marzo 2023 all'interno di Palazzo Ferrofini a Venezia. Mi impegno per il futuro ad astenermi da ogni e qualsiasi comportamento che possa arrecare disagio e o imbarazzo a chi che sia. A questo comunicato Milena Cecchetto risponde con un suo messaggio in cui, vista la presa di coscienza di Gio Formaggio e le sue formali scuse, annuncia che ha deciso di non sporgere querela né di richiedere alcunché per il danno morale subito a fronte di una donazione a favore di un'associazione a cui fa riferimento anche Gio Formaggio nel suo comunicato dove scrive Voglio infine precisare come, nonostante io abbia offerto alla signora Cecchetto un riconoscimento per il disagio morale subito, lei abbia declinato preferendo invece devolvere la somma che avevo preventivato, pari ad Euro 10.000 ad un'associazione impegnata nella lotta alla violenza contro le donne e dalla Cecchetto medesima indicata, allo scopo di tangibile e concreta vicinanza a chi si occupa di aiutare le donne vittime di violenza. Sembra così concludersi una vicenda che aveva fatto discutere Gio Formaggio porge la mano, a distanza, a Milena Cecchetto scambio di messaggi e pace fatta Confidiamo che la vicenda possa ritenersi conclusa